Il mondo è un luogo misterioso. Ci sono meraviglie della natura che non aspettano altro che essere scoperte dai più coraggiosi. Meraviglie, come la creatura di cui ho sentito parlare solo nelle leggende. Un mostro mitologico sbucato fuori dal peggiore degli incubi. Con occhi spiritati, una faccia spaventosa e dei piedi straordinariamente, mostruosamente piccoli! È una creatura terrificante, con piccoli perfetti denti bianchi e un alito che profuma di menta. E gli unici peli che ha su tutto il corpo sono quelli sulla testa! Smetti l'amico, li stai spaventando! Ehi, non dovete aver paura, è solo una storia. Lo sanno tutti che Smallfoot non esiste. Oh, esiste! Divertente, molto divertente. Li spaventerai per sempre! Ehi, non dovete aver guardato il video!